Luciano Moggi! E io ripeto, anzi dico buonasera a tutti quanti e buona trasmissione, che devo dire di altro non ho da dire. Luciano ma sei pieno di fogli? Io vado io allora. No, no, ma ho preparato qui un cosmo, ma niente di particolare perché siccome non mi ricordo molto delle cose, allora ho preferito farmi documentare. Giovanna io me ne posso andare allora. No, no, stai pure, stai pure, stai pure, stai pure. Ma Fredy è per questo che ti ho chiamato tante volte, hai visto come parlavamo? Diamo avanti, andiamo avanti. No Luciano siamo arrivati tra l'altro, a parte che c'è una traversa da segnalare, no Bertone scusami. Traversa di Lukaku ma un attimo fa, occasionissima per il Leverkusen con Frimpong solo davanti a svilare, tiro con la palla che è andata sull'esterno della rete, quindi si sta accendendo anche la sfida dell'Olimpico che è l'unica delle tre italiane che stiamo seguendo ancora ferma sullo 0-0. Traversa di Lukaku mentre eravamo in pubblicità, cross di Paredes, Lukaku di testa, portiere battuto, palla che però colpisce la traversa e poi finisce fuori. E le altre? 1-1 Marsiglia-Atalanta, era andata in vantaggio l'Atalanta con Scamacchi, è arrivato il pareggio di Mbemba, 1-1 anche tra Fiorentina e Brugge al gol iniziale di Sottila, risposto Van Aken su calcio di rigore. Quindi tutte e tre ancora in bilico, insomma, pareggio, quindi gare apertissime. Tutto Eliso. Andiamo avanti. Allora, caro Luciano, siamo arrivati al momento, io stavo proprio introducendo i festeggiamenti dell'Inter e chiedendo se ci fosse qualcosa all'interno di queste dichiarazioni che si sono fatte anche da parte di dirigenti e ex dirigenti che abbia un po', come dire, fatto l'effetto del gesto sulla lavagna, inopportuno. Allora, mi citavano le dichiarazioni di Massimo Moratti a proposito di ex dirigenti, ex presidente. Andiamole a vedere nello specifico. Allora, l'antefatto, cioè lui non vedeva l'ora di rispondere così e questo va detto. Sicuramente uno spunto l'avrebbe trovato a prescindere, come l'ha sempre fatto negli anni. La domanda in questione era come risposta a un Andrea Agnelli che il giorno dello scudetto ha postato la data della seconda stella della Juve e quindi alla domanda del giornalista, ma Agnelli ha fatto così, lei cosa risponde? Moratti, che comunque avrebbe detto queste cose, ha risposto. Se gli scudetti dell'Inter sono 19 o 20, senza tutto quello che sappiamo, sarebbe già a quota 25 scudetti. La prima stella è arrivata in un momento di grandi vittorie, alzare trofei era abbastanza un'abitudine, ma ci sono dei cicli e vincere dieci scudetti non è facile. Se poi non ci fosse stata la Juventus, ci saremmo arrivati prima. Beh, questo è un affondo veramente... Io credo che anche il rancore cada in prescrizione. Questo è un affondo tipico di Moratti, il quale Moratti non vuole... Ma come tutti gli interisti, attenzione, non vuole prendere visione di quello che è la sostanza e la verità di un qualcosa che loro proprio cercano di allontanare. Allora, visto e considerato che loro cercano di allontanarli, io vi faccio vedere una sentenza. Ma per loro contano solo la sentenza di Napoli e la sentenza di Napoli racconta che non ci sono reati, ma ci sono reati e consumazione anticipata. Come se per esempio Maifredi venisse qua, non trova nessuno, vede 100 euro sul tavolo, non li prende ma li potrebbe prendere, è già per le PM una consumazione anticipata. E lui è una brava persona che va praticamente a processo. Qui invece si tratta di una cosa diversa. Guardatela tutti. È la sentenza 21-66 del 2018. Che dice esattamente, chi vuole ne può prendere visione, della Corte di Appello di Milano oltretutto, che dice che il Presidente Facchetti faceva lobbying con gli arbitri. che dice che il Presidente Facchetti è andato nello spogliatore di un arbitro Bertini per la semifinale di Coppa Italia Cagliari-Inter a chiedere all'arbitro di far vincere l'Inter, cosa che noi non abbiamo mai fatto perché probabilmente avevamo una squadra che riusciva da sola a vincere le partite. che dice oltretutto che in pratica il Procuratore federale della Federazione, il Dottor Palazzi, raccontava in queste poche pagine che l'Inter era la società che rischiava più di tutti per il comportamento illegale del suo Presidente Facchetti. Di conseguenza, se prende in esame quello che dice Napoli e che parla soltanto di reati a consumazione anticipata, quindi di non reati, perché non prende in esame quello che sostanzialmente è il reato principale, quello di andare da un arbitro a chiedere di vincere la partita ed è contenuto in questa sentenza la 21.66 del 2018 della Corte di Appello di Milano. Se si vergognassero un attimo forse sarebbe meglio, ma devo dire anche di più, in questa sentenza c'è scritto anche un'altra cosa che non dipende dal cosiddetto sistema MOGI come è stato inventato, ma era un sistema di corruttela delle società di calcio di quel tempo, quindi mi scagiono anche da quello, per cui se Moratti stesse zitto, per esempio, secondo me guadagnerebbe un'occasione d'oro, perché dice stupidaggine a non finire, alimentati dai giornalisti, attenzione perché gli fanno delle domande tra bocchetto alle quali lui non può non rispondere e risponde in maniera sgarbata, fuori posto e fuori luogo, perché c'è questa sentenza che praticamente lo deve fermare. Attenzione intanto, brutte notizie da Roma, arriva il gol del Bayer Leverkusen su una sciocchezza difensiva della Roma che regala palla ai tedeschi e poi Virz deve solo appoggiare in rete la delusione di Karzdorp perché è lui che ha commesso l'errore perdendo quel pallone sciagurato e poi insomma per il Bayer Leverkusen è stato un gioco da ragazzi trovare l'1-0 e adesso si fa dura perché Leverkusen è sicuramente delle squadre rimaste quella più forte, più accreditata e ora è in vantaggio quindi serve davvero un'impresa per ribaltare questa sfida 0-1 dunque all'Olimpico. Ora, aspetta Giovanna mentre io stavo raccontando questa cosa lui ci ha interrotto per una cosa minimale Bertone Vergogna, ti ha ragione Caro Federico, non è da te Luciano, tu devi avvisare le squadre che stanno giocando in Coppa di non segnare quello parli tu Vabbè, la prossima volta che lo vedrò anche in questo Però è vero che c'è una narrazione come nella favola di Biancandidi di Cappuccetto Rosso C'è Cappuccetto Rosso c'è il lupo cattivo e questa narrazione per cui la Juve sia stata il lupo cattivo e Cappuccetto Rosso l'Inter rimane nella testa anche di persone voglio dire Moratti lo reputa una persona intelligente e Miglior Tacero non fu mai scritto a un certo punto basta anche perché si Ma infatti Giovanna il problema è un altro allora io appresso e godo anche del fatto perché secondo me l'Inter è una cosa diversa da chi conduceva l'Inter quindi per me che l'Inter abbia vinto dominando il campionato è una cosa bella può servire per l'Italia oltretutto perché l'Inter ha dei giocatori italiani forse più di tutte le squadre che possono alimentare la nazionale italiana ma sempre sentire questo presidente che fa sempre i stessi discorsi e dice 20-25 non sa quello che dice ma scusate ma se fosse se fosse uno che ragiona praticamente ma quando riesce a cambiare Coco con Sidorfe o quando riesce a cambiare Carini con il Cannavaro o quando prende Taribo West che non si faceva il bagno per niente o quando prende Gansukur che si faceva il bagno con le mutande perché praticamente è una questione di religione ma cosa vuoi io prendevo Zidane prendevo Red lui prendeva Vampeta ma stesse zitto una volta ogni tanto noi siamo contenti che l'Inter abbia vinto ma saremmo ancora più contenti se lui stesse zitto e non discesse stupida anche perché sono testimone che Moggi è sempre stato un sostenitore di Inzaghi dell'Inter di Ausilio di Marotta come grande voglio contraddire il direttore però l'ambiente interista ha questa tendenza a ergersi moralmente superiore agli altri ok vado a vedere dopo la vittoria dello Scudetto molti postavano storia il Milan è stato poco legante nei confronti perché non ha fatto i complimenti poi dopo sono venute fuori tutta una serie di cose becere dal festeggio ma hanno fatto bene a non fare i complimenti hanno fatto bene ma infatti si sono sempre posti in maniera raccontandosela sai quando uno si racconta una balla diventa quasi vera a forza di raccontare si a furia di tiro bugie le bugie diventano vera la storia che si sono stati prescritti è nata del dimenticatorio per gli interisti c'è stato un reato ma vedi loro questa sentenza qui della corte della penna è come se non fosse successa e invece racconta che proprio il presidente dell'Inter faceva lobbying con gli arbitri racconta Palazzi il procuratore federale che era la società che rischiava più di tutti era quella che aveva fatto praticamente il reato che poi è un'altra cosa che mi ha stupito perché le dichiarazioni di Moratti vanno avanti e adesso scusate fate parlare anche Maifred sto guardando la partita Gigi vuoi dire perché poi vado avanti su Moratti vuoi dire su questo passaggio di Moratti vuoi dire qualcosa l'interessato si è difeso benissimo per cui io faccio l'avvocato esatto ragazzi no perché Moratti invece portando all'attualità nel senso questo scudetto lui ha fatto i complimenti a tutti meno che a Marotta ma sai perché non l'ha fatto a Marotta perché è invidioso di Marotta perché lui spendeva e spandeva senza vincere vincendo poco questo praticamente con i problemi economici che ha è riuscito a fare una squadra che sostanzialmente ha vinto dando anche dimostrazione di qualità di osservazione dei giocatori portando in campo una squadra che praticamente ha divertito tutta l'Italia questa è la verità cosa che non succedeva a tempi di Moratti e quindi stesso Egitto una volta tanto che praticamente guarda adesso a me mi ha proprio stufato ed era ed era un presidente che io che a me mi stava simpatico anche perché ho rischiato anche di andare all'Inter ti faceva vincere ti faceva vincere ti faceva vincere ti era simpatico per quello io mi sono stupita perché nell'elenco di persone addirittura si è soffermato nel tessere le lodi di Zhang che secondo me è poi tutto questo merito voglio dire un presidente assente avrà preso le lodi anche di ausilio magari i dirigenti non li ha nominati ha nominato Zhang ma proprio una sviolinata sarà l'Inter di Zhang poi se gli domandati dove sta Zhang non lo sa probabilmente il merito è uno scudetto è veramente dei dirigenti che quando l'anno scorso volevano tutti la testa di Inzaghi i dirigenti l'hanno difeso contro la loro tifoseria no no non l'hanno difeso non è che Marotta lo mette sulla graticola per prima no no ma non è vero allora guardate siccome io conosco bene Marotta e tutto quello che ha fatto vi devo dire che lui ha fatto una cosa diversa è stato più vicino ad Inzaghi di quello che stava prima perché secondo lui Inzaghi aveva bisogno di aiuto e l'ha aiutato e Inzaghi è cresciuto e adesso i tifosi dell'Inter e l'Inter stessa si gode la crescita di Inzaghi perché quest'anno non ha sbagliato niente non ha sbagliato niente e di conseguenza la squadra ha vinto ha vinto perché era la più forte su questo non c'è dubbio però nella sostanza lui è stato chi Belotti 2 a 1 il tiro di Bonaventura la parata così così del portiere del Bruges e poi però Belotti fa un gran gol davvero bomber difende il pallone si gira in un fazzoletto e trova col sinistro questa botta rasoterra che diventa imparabile quindi la Fiorentina torna in vantaggio 2 a 1 vi segnalo che invece a Roma la Roma sta vivendo dei minuti difficilissimi dopo il gol del Leverkusen Roma in bambola e il Bayern avrebbe potuto farne almeno altri due quindi la cosa buona è che non li abbia fatti però tu non puoi disturbarmi quando io sto dicendo delle cose importanti coinvolgendo Maifredi perché Maifredi non voleva no Maifredi non voleva esatto bravo perché Gigi è concentrato sul campo io lo vedo ma io che avresti detto ti ho fatto no ma è possibile che tutte le volte mi interrompi hai ragione te l'ho detto dobbiamo avvisare le squadre dobbiamo avvisare non devono segnare Giovanna procura di avvisare le squadre esatto tre partite sono tante da controllare però cercheremo di fare l'impossibile ragazzi allora volevo chiedere Padovanno Maifredi questi ringraziamenti dimorati che non sono secondo me volutamente caduti sui dirigenti che cosa nascondono? ma non so che cosa nascondono sinceramente mi interessa anche poco sono assolutamente in linea con quanto detto dal direttore guarda volevo aggiungere solo una cosa io ho avuto la fortuna grazie al direttore che mi ha portato alla Juventus di vincere veramente molto sono arrivato in una squadra meravigliosa fortissima quindi il mio palmares è un palmares di tutto rispetto ho vinto veramente tutto quello che c'era da vincere se in questo palmares ci fosse uno scudetto assegnato a mio tavolino io nella mia vetrinetta personale di casa non ce l'avrei messo no ma poi soprattutto io non ce l'avrei messo ma io personalmente no no Michele soprattutto un qualcosa che è stato determinato dall'avvocato Guido Rossi ex dirigente dell'Inter a maggior ragione praticamente prestato un attimo alla federazione dove doveva fare una certa pratica e l'ha fatta sicuramente sicuramente bene perché evidentemente in questo momento da tutte le parti in cui ti rivolgi tu non sentirai mai dire che sono personalità che possono praticamente dire diversamente da quello che è stata la diciamo la finalità di quel campionato e tenere presente che è uno scudetto che non è stato dato è un foglietto dove è scritto che lo scudetto praticamente è stato assegnato all'Inter ci sono mille cose che praticamente dovrebbero ma il presidente della federazione in questo momento è un po' distratto è un po' distratto dalle cose sue da quello che deve tenere in piedi e quindi evita di parlare di queste cose ma vi faccio la domanda intanto mi rievocavo le dichiarazioni che sono state fantastiche di un Murigno che appena arrivato all'Inter disse proprio nella gara contro l'Atalanta voi non siete nessuno avete vinto uno scudetto in segreteria uno nel pantano di Parma che se non entrava Ibrahimovic ancora eravate lì e uno contro nessuno quindi insomma il vincente fa fatica come dici tu Padovano a considerare tale uno scudetto però però c'è anche una come posso dire una rivalità allora c'è anche il rovescio della medaglia mi spiego tu Juve continueresti a contarne lo continueresti a contare quindi ma non c'è dubbio non c'è dubbio ma non c'è dubbio quello è stato vinto sul campo perché poi bisogna chiarire è stato vinto sul campo quindi voglio dire è stato tolto tu dici è stato tolto in maniera allora Michele quando quando praticamente Slade Ibrahimovic è andato all'Inter è andato all'Inter ha fatto un'intervista con me dicendo che noi appena scendevamo praticamente nello spogliatore della Juventus sembrava di stare alla Playstation e questo già ti dice tutto prende l'idea abbiamo vinto il campionato con le nostre forze senza bisogno di aiuti particolari e lo diceva uno che in quel momento aveva la maglia nera azzurra attenzione no no certo Ibra che tra l'altro ha parlato ma in quegli anni quelli anni quella squadra c'erano 15 giocatori in quella squadra della Juventus che erano nella finale mondiale Italia-Francia erano una squadra 15 giocatori quindi ma di che cosa stiamo parlando era una squadra devastante ritornare su questo questo balletto della discordia questa bufera che si è abbattuta e continua ad abbattersi perché vogliono togliere addirittura vogliono alcuni tifosi prendere provvedimenti seri nei confronti di Quadrado ragazzi la realtà per un balletto chi non salta Juventino è per un festeggiamento al quale si è unito Quadrado chi non salta Juventino è hanno detto e lui a ballare e lui si è unito a questi ha festeggiato lo scudetto e questa cosa è una mancanza di rispetto ma anche per tanti qui si parla di Quadrado no? si parla di Quadrado tenere presente che io ero presente alla partita di Torino quando praticamente l'Inter è venuto da Torino hanno fatto di Quadrado una specie di ma non voglio neppure descrivere quello che le hanno detto perché era talmente eppure questo questo giocatore nel passato era un idolo della folla Juventina adesso è cambiato il colore della maglia ed è cambiato il modo di giudicare questo ragazzo ma questo ha fatto bene perché viene pagato dall'Inter ha fatto bene assaltare se è l'occorrenza praticamente perché non è più un tesserato della Juventus per cui il problema ed è qui che si vince una cosa un po' particolare che secondo me praticamente deve essere osservata dalle società di calcio mai dare retta ai tifosi perché praticamente ragionano di pancia vorrebbero cambiare per esempio nel caso del Milan hanno detto di no allo Peteghi e secondo voi è una cosa giusta che la società stia praticamente a quello che dice una tifoseria no allo Peteghi ma volete venire a vedere il Milan con l'Opeteghi no andate al cinema questo è quello che praticamente bisogna dire a tifosi è segno di debolezza di una società ma quando mai secondo voi ma chi saprà meglio di tutti cosa occorre nella società di calcio credo praticamente i dirigenti e l'allenatore viene scelto dai dirigenti perché praticamente ha le caratteristiche del gruppo giocatori che dovrebbe prendere sotto le sue cure e allora a questo punto o i dirigenti non sono capaci di scegliere l'allenatore buono o i tifosi praticamente devono stare zitti perché non capiscono quello che esiste nel gruppo io sono del parere che i dirigenti sappiano come dirigere e soprattutto come prendere un allenatore con le caratteristiche dei giocatori che resteranno perché i tifosi non sanno neppure quali sono i giocatori che resteranno lo sanno i dirigenti perché poi dopo il mercato potrà vendere e comprare uno e vendere un altro quindi perché sottostare al giudizio dei tifosi che sostanzialmente dicono no a Lopeteghi ma è assurdo ne parleremo ma ti dirò anche di più ferma ti dirò anche di più di questo ne posso offrire anche Ibrahimovic perché Ibrahimovic ha dato il benestare per Lopeteghi è un consulente è vero che è un consulente ma è un consulente che dà dei consigli e i consigli praticamente dovrebbero essere citati altrimenti deve essere posto fine a un consulente e invece questi qua naturalmente hanno le idee loro e impongono anche ad Ibrahimovic ma anche ai dirigenti soprattutto al presidente le loro condizioni e questi smettono di trattare non esiste guarda ne parliamo dopo perché avrei fatto io avrei fatto proprio una cosa per dispetto Lopeteghi non lo volete bene allenatore del mio ma lì bisogna capire se la forza delle idee fosse talmente misera da Lopeteghi voleva un altro quindi c'è ma io non voglio mica discutere Giovanna spessore diligenziale chi ne esce male è la società è la società io non voglio discutere il valore io non sto discutendo in questo momento il valore di Lopeteghi attenzione sto discutendo che la società non deve sottostare ha detto bene Gigi questo è quello che è successo negli ultimi due anni il Milano non dà una sensazione di pochezza a livello societario cioè dopo parla questa domanda se sei sotto il Milano non dà la sensazione di una debolezza ma la certezza di non avere un direttore perché il direttore dirige e comanda e il consulente fa praticamente una consulenza che può essere presa in esame o meno è deciso o meno questo è il punto diverso e la mancanza di Maldini e Massara si è fatta sentire ma più che altro ma scusate c'è un direttore che nel mondo del calcio praticamente ha fatto sempre bene ma no è tare ma se io se io fossi un dirigente di una società di calcio nella fattispecie anche del Mila io prenderei immediatamente questo direttore che ha dimostrato con la Lazio di essere uno che sa tenere bilanci all'occorrenza a posto e sa portare praticamente dei giocatori che possono portare la squadra a certi livelli di classifica e anche in Europa questo è quello che bisogna fare se al consulente non li dai retta devi prendere un dirigente devi prendere un dirigente che sa fare il mestiere suo io pensavo che quando hanno preso Ibra avessero risolto in parte il problema perché la personalità di Ibra secondo me doveva farsi valere e vedi Gigi non gli danno la carica che vorrebbe perché se Ibra gli dici fai il direttore generale Ibra comincia a dire si fa così punto e basta e invece come consulente devi fare la consulenza e basta basta può dare un'idea ma non è hai ragione tu perché praticamente la carica è quella che ti dà la forza di dirigere una società di calcio la consulenza ti dà solo la forza di dare un consiglio che ha accettato una roba del genere che è sminutivo per lui secondo me cioè voglio dire è un incarico io per esempio non l'avrei accettata ma anche lui avrebbe dovuto ma vedi Ibraimovic per amore del Mila perché gli piace stare a Milano eccetera ha accettato anche questo praticamente secondo me ha sbagliato o meglio fino ad ora può aver sbagliato poi dopo vediamo se gli danno retta o meno ma se non gli danno retta come nel caso di Lopeteghi probabilmente è il caso di dire Ibra da una parte è il mio che esatto grazie però se non gli danno retta come non dar retta Cardinale perché due mesi fa Cardinale ha detto quello che dice Ibraimovic è quello che dico io di fatto è un'intervista c'è distonia quindi dovete screditare anche il presidente perfetto ma c'è distonia tra le parti societarie e questo qui è il grave del Mila in questo momento perché se il presidente dice una cosa e gli altri fanno un'altra adesso nessuno mi può togliere dalla testa che la decisione di non andare su Lopeteghi non sia anche di Cardinale quindi Cardinale ha sbagliato a dire prima prendiamo Lopeteghi e ora sbaglia a dire sia secondare ad aver paura della reazione dei tifosi quindi a fare un marcia indietro anche perché metti in difficoltà chi la fa e con questo ringrazio Federico che ti ho lasciato vedi no 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 ma io guarda ci sono stati tre cose c'è l'intervallo quindi ho detto lasciami sfugare il direttore così adesso dice vedi sul discorso Milan tra l'altro guarda me l'hai anticipato di un secondo quindi lo voglio fare adesso subito perché ci sono anche le dichiarazioni fresche di giornata di Ibrahimovic c'è questo no a Lopeteghi ma c'è e ci sono anche le dichiarazioni a caldo dello stesso allenatore spagnolo che si è detto sbalordito basito impietrito pietrificato per questa cosa che non gli era mai successa in vita sua cioè che dei tifosi dicessero no ad un suo eventuale arrivo sulla panchina ma a me Giovanna ricordo sempre quando ho preso Carlo Ancellotti tutti mi dissero che avevo preso un maiale e io gli dissi ragazzi scusate un attimo tenetemi il maiale adesso ormai l'ho preso sarà la prima volta che un maiale sta in panchina nella Juve chissà che non abbiamo dei risultati non hai sei indietreggiato di un centimetro ma vi ricordate altri casi in cui i dirigenti hanno i presidenti Vucini c'è cosa che c'era nel passato che dei trasferimenti sono saltati signori a Lazio cosa cosa signori alla Lazio doveva andare a Parma forse doveva andare a Parma manifestazione pubblica in piazza ai tifosi e la società però lì è diverso c'è lì erano i tifosi che non volevano che partisse credo che lei parlasse più di quegli affari saltati perché non vuoi che arrivino mi ricordo Stankovic per esempio ti ricordi Stankovic che stava per andare alla Juventus no 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 Luciano non quando l'hai preso tu non quando l'hai preso tu nel 2010 l'anno l'anno prima del triplete dell'Inter lui stava andando alla Juventus di nuovo si creò una sollevazione popolare non so che quando l'ho prese l'Inter c'eri anche tu con la Juve quello mi ricordo allora diciamola chiara chiara così dilla dilla no la dico la dico visto che ho considerato è entrato nell'argomento Federico allora io praticamente a febbraio parlo con Stankovic e parlare con Stankovic non era in maniera diretta perché la Lazio praticamente era diretta da una banca e da Mancini per cui la trattativa la feci con la banca e con Mancini e presi Stankovic presi Stankovic ovviamente gli feci firmare un diciamo un contratto in privato però perché non era valido per la Federazione i tempi non erano giusti gli feci fare un contratto che praticamente sarebbe stato con noi tre anni che poi avrei modificato per presentare ovviamente in Federazione faccio questo contratto mi viene a dire faremo qui faremo là vinceremo tutto quello che è possibile vincere dopo due mesi sparisce sparisce dalla circolazione io lo cerco non lo trovo a giugno mi trovo il giocatore col contratto depositato in Lega da parte dell'Inter quindi il giocatore che aveva sottoscritto un accordo privato con me che passa all'Inter con un contratto effettivamente valido nei tempi giusti a quel punto io mi sono domandato perché praticamente si sia verificato questa cosa e domandandomi e mentre mi domandavo perché si era verificata questa cosa ho capito che c'era qualcuno che disturbava il telefono durante le conversazioni di mercato e magari intercettava vedendo i giri che poteva fare la Juventus eccetera ti anticipava insomma sapendo si mi ha anticipato quello che poi è successo con l'intercettazione di Tele con me e da quel momento è nata la scheda team svizzera per cercare di non andare in bocca al lupo praticamente a fargli sapere quello che sostanzialmente noi stiamo facendo solo per quello è successo e lì ci hanno fatto un romanzo allora sì le sim sono 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 diventate allora dovevi passare la voda con l'epoca c'è